Cari amici di Visione TV, cari amici di Ancora Italia, un caro saluto da Diego Fusaro. In questo mio breve intervento vorrei provare a illustrare le ragioni dell'importanza imprescindibile dello Stato sovrano nazionale come fortilizio di resistenza democratica rispetto ai processi di post-democratizzazione legati alla globalizzazione turbo-capitalistica. In sintesi, la dinamica di sviluppo del tecnocapitale è anche quella in grazia della quale esso prova a svincolarsi dalla sovranità degli stati nazionali. L'economia globale, infatti, detta anche deregolamentata, può porre in essere la propria logica di sviluppo liberandosi da tutti i limiti che ne frenino, ne controllino o ne disciplinino l'andamento. Per questo il capitalismo diviene assoluto, letteralmente absolutus, quando si realizza liberandosi da ogni ostacolo e divenendo esso soltanto sovrano. Per questo gli stati sovrani nazionali divengono, per la logica di sviluppo del capitalismo, un ostacolo che esso deve superare, ponendo in essere la figura dell'economia sovrana, globale, post-nazionale e deregolamentata. Sotto questo riguardo non stupisce che larga parte dei pedagoghi del globalismo e degli ingegneri della globalizzazione infelice si adoperino con zelo quotidianamente per produrre la desovranizzazione, ossia l'annichilimento delle sovranità degli stati nazionali, ridefiniti come semplici comitati d'affari dei gruppi dominanti. Sotto questo riguardo bisogna essere precisi. La globalizzazione non produce l'annichilimento degli stati, come talvolta erroneamente si pensa. La globalizzazione produce invece la dissoluzione delle sovranità degli stati. Gli stati persistono ma vengono rifunzionalizzati come semplici espressioni dei gruppi dominanti al servigio dell'economia globale. Ecco allora che gli stati desovranizzati divengono realmente comitati d'affari dei gruppi dominanti che li utilizzano come braccio armato del potere stesso della economia globale, reprimendo con la forza moti di contestazione come accadde tra i tanti esempi con la Francia delle giubbe gialle, o ancora utilizzano gli stati semplicemente come braccia armate della globalizzazione dei suoi interessi. Pensiamo al welfarismo a rovescio che è una caratteristica propria del nuovo stato desovranizzato che usa i fondi pubblici non già per praticare il welfar a beneficio dei ceti dominati, bensì per drenare danari verso l'alto, verso i signori apolidi del capitale, donando l'oro come avvenuto dal 2007 in poi, salvando le banche e producendo appunto un welfarismo rovesciato. La globalizzazione, dicevo, produce la desovranizzazione, non la sparizione degli stati. Sicché quella in atto è anche una contrapposizione sempre più palese tra l'apertura, la openness finanziaria da una parte e la sovranità residua degli stati nazionali come ultimi baluardi di democrazia e di diritti sociali dall'altra. Larga parte degli intellettuali globalisti di completamento, quelli che potremmo definire i western globalists, si adoperano per screditare le ragioni dello stato nazionale con ciò favorendo i processi di desovranizzazione presentati come intrinsecamente emancipativi, quando tali sono soltanto per i gruppi dominanti. Ecco allora che si va ripetendo a tambur battente che lo stato nazionale è intrinsecamente fascista e repressivo, quando in realtà lo stato sovrano nazionale è stato anche, non secondariamente, il teatro delle grandi conquiste salariali e welfaristiche di diritti dei gruppi dominati. Lo stato sovrano nazionale è stato altresì il teatro del keynesismo nel secondo novecento, da che la figura fondamentale della democrazia socialista, governare l'economia a beneficio delle classi dominate, a beneficio della comunità umana presuppone la possibilità dello stato sovrano nazionale di intervenire nell'economia, laddove la desovranizzazione dello stato produce come effetto l'impossibilità per lo stato nazionale stesso di intervenire autonomamente nell'economia per disciplinarla, per produrre la figura che con Hegel chiamerò del disciplinare la bestia selvatica del mercato. Ecco perché lo stato interviene solo quando a richiederlo è l'economia oggi per fare welfarismo a rovescio, ma non può mai intervenire per controllare l'economia e per disciplinarla a beneficio dei gruppi dominati. Si produce un meccanismo di questo tipo che rompe il compromesso storico tra stato e mercato e pone in essere l'autonomia dell'economia, la sovranità dell'economico, un rapporto tale per cui i gruppi bancari e finanziari possono intervenire nello stato per disciplinarlo a proprio uso e consumo, laddove lo stato per parte sua non può mai intervenire nei meccanismi della finanza e dell'economia per disciplinarli. Ecco perché assistiamo sempre più spesso per inciso all'ascesa al potere di banchieri che vanno a occupare il posto di presidenti del consiglio o di capi di stato, emblematico a tal riguardo il caso dell'ex banchiere Rothschild Macron o dell'ex banchiere Goldman Sachs Mario Draghi. Si è scoperta per così dire la formula magica per trasformare non il piombo in oro ma i banchieri in politici, secondo una circolarità funesta e perversa per cui i banchieri diventano politici e i politici per rimanere tali debbono diventare banchieri. Per queste ragioni stiamo assistendo, ripeto, alla desovranizzazione degli stati nazionali che è poi un altro modo di chiamare la dedemocratizzazione dei vecchi spazi abitati da più o meno perfette o perfettibili democrazie. Possiamo dire in termini generali con una formula icastica che lo stato sovrano nazionale può e a nostro giudizio deve essere democratico e socialista, l'economia globale desovranizzata non lo sarà intrinsecamente mai. Sotto questo riguardo lo stato sovrano nazionale è una vox media, può produrre come senz'altro ha prodotto nel novecento esperienze terrificanti come quella dei nazionalismi regressivi, autoritari e fascisti come ad esempio nel Cile di Pinochet, ma è stato anche ricordo l'esemplum vivente di un socialismo democratico organizzato, del welfareismo, della organizzazione delle classi lavoratrici e delle loro conquiste. Ecco perché dicevo lo stato nazionale è una vox media, può produrre regresso o civiltà, repressione o sviluppo delle classi lavoratrici. Per parte sua invece l'economia desovranizzata e globalista è intrinsecamente uno strumento nelle mani dei gruppi dominanti e non potrà mai essere regolamentata in chiave democratica, stante il fatto che la condizione stessa della sua regolamentazione possibile, lo stato sovrano nazionale viene decostruito dai processi stessi della globalizzazione. Sotto questo riguardo, con una definizione per certi versi semplificatrice ma ad ogni modo euristicamente feconda, possiamo dire che la democrazia può anche essere intesa come la sovranità del demos nello stato sovrano nazionale. La democrazia è la sovranità del popolo nello stato e tale sovranità del popolo nello stato presuppone la sovranità dello stato. I processi di inglobalizzazione, ossia di sussunzione del mondo intero sotto il capitale, sotto l'economia deregolamentata, procedono già da anni decostruendo la sovranità degli stati nazionali per poter così, uno motu, decostruire anche la sovranità dei popoli negli stati. Se si muove infatti la sovranità dello stato, si è perciò stesso rimossa la possibilità della sovranità popolare nello stato. Ecco perché l'Unione Europea rappresenta un esempio, un mirabile di de-sovranizzazione e quindi di de-democratizzazione dello spazio del vecchio continente europeo. L'Unione Europea ha reso possibile il transito della sovranità dai parlamenti nazionali più o meno democratici, a enti post-nazionali e intrinsecamente post-democratici come la Banca Centrale Europea, stante il fatto che il Parlamento Europeo svolge un ruolo prettamente coreografico. Ecco perché la rimozione della sovranità degli stati è condicio sine qua non per la distruzione delle sovranità popolari negli stati. Ed è per questo che i pedagoghi del globalismo San Frontier si impegnano con tanto zelo a decostruire sia a livello materiale, sia a livello immateriale, sia a livello reale, sia a livello ideologico l'idea stessa oltre che la realtà stessa dello stato sovrano nazionale. Distrugger lo stato sovrano nazionale significa né più né meno che distruggere le possibilità di controllo democratico dell'economia. Il sogno del globalismo è quello di disporre di un'economia non più controllabile dalla politica o più precisamente di rifunzionalizzare la politica in funzione dell'economia stessa. Per questo prendendo in prestito una formula di Michel Foucault possiamo dire che la moderna esperienza della politica come governare lo Stato e governare con lo Stato il mercato cede oggi il passo all'esperienza postmoderna del governare per i mercati. La politica non governa più i mercati ma governa per i mercati e in loro funzione. Questa potrebbe anche essere una definizione minimale del neoliberismo, governare per i mercati. Possiamo altresi dire con una coppia concettuale anglofona che non vi è più il government ma vi è soltanto la governance, cioè l'amministrazione della politica in funzione del mercato. Questa è l'essenza del neoliberismo e questa è l'essenza della desovranizzazione degli Stati.